Cari pellegrini, il 5 giugno del 1224 Federico II fonda l'Università di Napoli. L'Università di Napoli non fu la prima università, perché la prima università è datata a 1088 ed è quella di Bologna. Ora questo fatto ci dà la possibilità di fare alcune riflessioni soprattutto di apologetica storica. Allora dobbiamo porci due interrogativi. Il primo interrogativo, perché le università, perché nacquero l'università, meglio perché il Medioevo fece nascere le università. Secondo interrogativo, perché le università si chiamano così. Allora rispondiamo alla prima domanda, perché il Medioevo fece nascere l'università. Teniamo presente che la filosofia naturale cristiana, cioè quella filosofia che nasce con l'avvento del cristianesimo, che si sviluppò prima con il pensiero dei padri della Chiesa, quindi con la patristica. Ricordiamo che i padri della Chiesa si chiamano padri della Chiesa perché il loro pensiero costituisce la fondamenta della teologia cattolica. E poi dopo la patristica, questa filosofia naturale cristiana si sviluppò con la scolastica. La scolastica nacque nelle scuole palatine, nel periodo carolingio, poi si sviluppò nei secoli successivi, oltrepassò il, diciamo, andò verso, si sviluppò anche nel basso Medioevo, quindi dopo il Mille, e trovò il suo vertice con il pensiero di Santo Maso nel XIII secolo, dicevamo, questa filosofia naturale cristiana, della patristica prima e della scolastica successivamente, era convinta del fatto che ragione e fede dovessero andare d'accordo. E il ragionamento era molto semplice, ed è questo. Nell'uomo esiste questa capacità di affidarsi, che è identificabile soprattutto nella volontà, ma nell'uomo esiste anche il desiderio di ricercare, di conoscere, che si identifica soprattutto con la sua intelligenza, con la sua ragione. Ora, Dio non ha creato una parte dell'uomo, ma ha creato tutto l'uomo, e quindi è giusto che l'uomo cerchi Dio, trovi Dio e vada incontro a Dio con tutto se stesso, cioè quindi tanto con la volontà quanto con la ragione. Ragione e fede devono andare d'accordo, no? Le famose due espressioni, intelligut credam, cioè ragiono per poter meglio credere, e credut intelligam, e credo per poter meglio ragionare. Quindi, d'altronde, la filosofia nel Medioevo veniva definita ancilleteologio, cioè ancella della teologia. Qui qualcuno, un po' scioccamente, ha voluto leggere questa espressione come una sorta di mortificazione della filosofia, quando invece non è così. Affermare che la filosofia è ancella della teologia significa voler dire che la filosofia deve svolgere una funzione ancillare nei confronti della teologia. Quindi la ragione introduce alla fede, la ragione è un preambolo, è propedeutica alla fede. Dunque, la risposta perché il Medioevo fa nascere l'università, perché il Medioevo valorizza la ricerca culturale, convinto del fatto che la rivelazione deve fondarsi su dati di ragione. Ma veniamo adesso alla seconda domanda. Perché le università si chiamano università? Università, chiaramente, fa riferimento alla universalità. Allora, qui la risposta è duplice. La prima riguarda la convinzione tipicamente medioevale di che cosa dovesse essere la ricerca culturale. Cioè, il Medioevo ovviamente non sviluppa una concezione relativista della cultura. Il Medioevo è convinto che la verità esista. E allora esistono ovviamente le varie discipline che hanno degli statuti autonomi, sono distinte fra di loro, la musica non è la geometria, la geometria non sono le scienze naturali, la matematica e via discorrendo. Quindi è giusto che queste discipline siano distinte e autonome, ma queste discipline cosa fanno? Studiano un particolare della realtà. Ma la realtà è fatta di tanti particolari, ma è sempre unica e viene da Dio. Ecco dunque la reduxio ad unum, cioè le varie discipline, pur essendo distinte, devono però tendere ad unità. Perché l'origine di tutto, chi ha creato la realtà e ha inserito nella realtà il suo logos, è Dio stesso che è logos. Ed ecco perché, vedete, nel Medioevo esistevano le specializzazioni, ma non erano le specializzazioni aride, come invece si svilupperanno nel mondo moderno e soprattutto nel mondo contemporaneo. No, noi oggi troviamo tanti cosiddetti specialisti che conoscono, che dividono il capello in quattro, come suol dire, conoscono tutto di un piccolo particolare, quindi alla fine si arriva a conoscere tutto, ma di niente. Nel Medioevo no. Nel Medioevo esistevano ovviamente le specializzazioni, ma sempre convinti del fatto che la diversità, diciamo la distinzione delle discipline, non dovesse compromettere l'unitarietà del sapere e quindi anche l'unitarietà della realtà. Ma abbiamo detto, per quanto riguarda questo secondo interrogativo, perché le università si chiamano università, c'è anche un'altra risposta da fare. Le università erano luoghi in cui tutti potevano studiare, cioè erano aperte a tutti, quindi non è che fossero aperti solamente alle persone che avevano più risorse economiche. Anzi, ci dicono gli storici che nell'università esistevano anche delle casse messe a disposizione di tutti, per cui chi aveva più disponibilità economica e pagava un po' di più a favore di coloro i quali venivano da situazioni più disagiate. Vedete, qui vi era una sintesi molto interessante, perché da una parte si sottolineava l'elemento del merito. Potevano andare avanti coloro i più volenterosi, quelli che effettivamente erano, avevano talenti per studiare, ma nello stesso tempo si dava anche la possibilità a tutti, perché il giovane che aveva talento di studiare poteva tanto venire da classi agiate quanto anche da classi disagiate. Daltronde, daltronde, se noi prendiamo per esempio i papi, noi nel corso della storia della Chiesa troviamo papi che provenivano da classi aristocratiche, da classi intermedie, ma anche dal mondo dei contadini. Quindi vedete come questo anniversario, 5 giugno 1224, fondazione della Università di Napoli, università dove anch'io personalmente ho studiato, ci ha dato la possibilità di fare qualche riflessione importante da un punto di vista di apologetica storica. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza. Grazie.